dimmi Mister ci troviamo a parlare di una nuova importante prestazione dell'Albese, ci eravamo sentiti nel prepartito avevi detto che non sarebbe stato facile contro una squadra comunque costruita per salire di categoria avete vinto, è arrivata una vittoria soprattutto, è arrivata una vittoria da quel che sei visto meritata, per comunque avete concesso poco anzi, le occasioni da rete più importanti le avete costruite voi, soprattutto con Sanci, con quel contropiede che poteva... Sì, meritata, sicuramente se la partita fosse finita in pareggio non avrebbero rubato niente, neanche loro. Però il secondo tempo forse abbiamo proprietato del fatto che loro stanno giocando ogni tre giorni, che non è facile, perché non è assolutamente facile, e siamo riusciti a creare qualcosa in più il secondo tempo. Sono molto contento, perché dieci punti in quattro partite era un traguardo impensabile quando sono arrivato. Soprattutto adesso dobbiamo cercare di sfruttare l'entusiasmo, ma dobbiamo già pensare alla partita con Moretta, perché è una partita fondamentale, assolutamente, ben diversa da quella di oggi, perché sarà giocata magari meno sulla tecnica, ma più sull'agonismo, e dobbiamo farci trovare assolutamente pronti. Ecco, tra le note lieti, a parte la terza rete in due partite di Sanci, c'è una difesa che oggi, al netto di un'autorete sfortunata, continua a dare sicurezze, concede poco, molto attenta, ha stabilità difensiva importante. Sì, la difesa sta giocando molto bene, queste quattro partite ha preso solo un gol, e quello di oggi è stato sfortunato, un'autorete, stanno giocando a un altissimo livello, ci sono giocatori di esperienza come Roveta e giovani, secondo me, molto bravi, come Boveri, che può giocare in categoria superiore, Grimaldi, e poi Massuco come 2001, veramente un ottimo 2001. Grazie mille e in bocca al lupo!